Nei nostri studi è venuto a trovarci Enzo Vergine, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. Buonasera. Buonasera a voi. I giovani per la Fiorentina sono sempre stati un fiore all'occhiello, lo sono anche in questo periodo, anche negli ultimi anni naturalmente. La Fiorentina, tanto per restare agli ultimissimi tempi, all'attualità è riuscita a portare in prima squadra Bernardeschi, Babacar. Domenica scorsa con il Frosinone ha esordito anche Lezzerini. Insomma, un motivo di vanto per il settore giovanile della Fiorentina. Sì, diciamo che quelli sono i veri successi per un settore giovanile e quindi tutti noi siamo felici quando dopo anni di sacrifici, dopo un processo, un percorso imperniato prevalentemente come noi facciamo da anni sulla formazione, perché a noi ci piace ripetere questo concetto che il vivaio viola, il vivaio della Fiorentina è un vivaio di formazione. Noi non prendiamo calciatori all'età avanzata, ma cerchiamo di reclutare tutti i nostri ragazzi prevalentemente in loco, quindi Firenze, Toscana. Pensate che dell'attuale primavera, che è una primavera giovane, che sta facendo bene in campionato, quasi la metà sono toscani. Quindi quando in primavera, che è l'apice della piramide di tutto un intero settore giovanile, quasi la metà sono toscani, questo è un dato che ci conforta, che è lavorare nella formazione dove, nella formazione non intendiamo, lavorare dalle fasce basse, dove possiamo avere gli anni di identità, fargli acquisire il valore della maglia, Certo, far sentire l'attaccamento alla maglia. L'attaccamento alla maglia, perché è chiaro che quando tu prendi un ragazzo di 17 anni, entrambi bravi, uno toscano, che ce l'hai da sei anni, e l'altro lo prendi da fuori della regione o dall'estero, è chiaro che sono entrambi bravi, ma il primo ovviamente ha un'identità, un attaccamento alla maglia che è diverso. Ecco, però ci sono anche degli stranieri, tanto per restare alla primavera, si è parlato molto in estate di DHT, era stato aggregato al gruppo di Paolo Sosa, era andato anche in ritiro, questo giocatore dalle grandi potenzialità, come sta andando, visto che comunque viene tenuto sotto la lente d'ingrandimento, un po' da tutti gli addetti ai lavori, dalla Fiorentina, dai tifosi. Ma sta andando, diciamo, bene, è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che è con noi oramai da qualche anno, tenete conto che stiamo parlando di un ragazzo del 98, del sedicenne, e il timore di noi addetti ai lavori, quando si accendono così presto, e tu lo sai perché da anni che dibattiamo di questi argomenti, quando si accendono così precocemente riflettori su un giovane calciatore, noi siamo sempre molto preoccupati che quei riflettori non possano ovviamente creare degli incidenti di percorso. Grazie a Dio sta facendo bene, sta crescendo come noi auspichiamo, e quindi l'augurio è che possa a breve essere un altro di quei ragazzi da aggregare in prima squadra, come già con l'allenatore, con Paolo Sosa, che sta dimostrando non solo di essere l'allenatore che tutti voi potete constatare, ma anche con una grande attenzione a questo lavoro per il futuro con i giovani. Nella primavera della Fiorentina e nel settore giovanile della Fiorentina ci sono anche tanti figli d'arte, uno di questi è il figlio di Enrico Chiesa, che tra l'altro è stato convocato nell'Under 19, però volevo anche dare uno sguardo con te ai giovani della Fiorentina che sono sparsi un po' per l'Italia, in prestito tra questi anche Capezzi al Crotone, un giocatore che sta facendo molto bene. A questo punto ci si chiede se possa essere pronto per il prossimo anno naturalmente per tornare in Serie A con la maglia della Fiorentina per stare dentro il gruppo della Fiorentina. In effetti i ragazzi che giocano in Serie B e in Serie C ne abbiamo diversi e grazie a Dio in tanti stanno facendo bene. È chiaro che fare bene in Serie B come nel caso che tu hai citato di Capezzi, di cui siamo tutti contenti e orgogliosi, ovviamente, perché l'augurio è che possa sul campo conquistarsi quell'esperienza necessaria per poter far parte di un gruppo altrettanto importante come quello della Fiorentina. Però sappiamo che è un percorso sempre difficile, complesso, perché non ci dimentichiamo mai che purtroppo in Italia non essendoci quegli strumenti che altri paesi hanno e di cui si sono dotati tanto tempo fa, quello delle seconde squadre, come la Germania, la Spagna, i ragazzi dai 19 ai 22, 23 anni non hanno un processo naturale di finalizzazione con il club che li ha allevati e questo è un problema che da tanti anni oramai in Italia si dibatte di difficile soluzione, ognuno ha la sua ricetta, ognuno trova le sue soluzioni, però tornando ai ragazzi che stanno facendo bene, sono tanti, tutti sotto osservazione, c'è il nostro ufficio scouting che li va a monitorare costantemente, la nostra direzione tecnica e sportiva li sta monitorando, perché poi d'accordo con l'allenatore, con il mister Sosa, poi quando arriveremo in fondo alla stagione si tireranno le somme su chi sul campo avrà dimostrato di avere quelle potenzialità di rientrare nel gruppo della prima squadra. Ecco, in 30 secondi prova a sbilanciarti su chi può avere i maggiori margini di miglioramento tra Fazzi, Venuti, Peralta, che sta facendo molto bene al Pisa? Allora, questa è una domanda che a me non potete ovviamente rivolgere, tu lo sai bene, perché è come chiedere a un papà che ha 4-5 figli, qual è il figlio preferito? Non è possibile, è una domanda che... E poi tu sei sempre molto cauto e quindi è difficile... Sì, assolutamente, vi dico che la mia sensazione è che oltre a Bernardeschi, Babacar, Diachite, Lezzerini, io credo che nel giro di due, massimo tre anni, saranno diversi che potranno essere presi in considerazione dalla prima squadra della Fiorentina. Questo è ovviamente l'augurio, ma sono convinto che le potenzialità che abbiamo in giro per l'Italia sono tante, un lavoro che è iniziato tanti e tanti anni fa, come tu sai, le piatticelle di cui parlava Mattario Corvino, e poi le abbiamo potute realizzare perché quando si sa quello che c'è da fare, dove si investono, anziché in soldi per andare a acquisire calciatori, si investe in progetti di formazione della scuola, e qui apro una parentesi, perché avere a che fare con dirigenti, con un presidente come Mario Cognini che voi conoscete, che in tutti questi anni è sempre stato, non solo vicino, ma ha stimolato di andare in quella direzione. Allora per chi fa il mio lavoro diventa più facile sapere di poter andare a portare la macchina in quella direzione, perché hai una società che crede in primis in tutti questi progetti, in tutte queste attività, e quindi il fatto di essere ogni anno sempre competitivi con la primavera, con gli altri campionati nazionali, e di vedere negli organici potenzialità di alto livello, allora credo che sia la mission più importante del settore giovanese.